Vediamo adesso quali sono le principali valute rifugio e adesso parliamo in particolare di yen e franco svizzero. Quando parliamo di yen e franco svizzero parliamo di valute che per fattori economici hanno mantenuto bassi tasse di interesse nel corso del tempo e quindi spesso vengono utilizzate per esempio per l'attività di carry trade, ovvero come valute di indebitamento. Questo cosa significa? Significa che da parte di operatori normalmente professionali o investitori istituzionali vengono prese come valute di indebitamento quindi ci si indebita in una valuta a basso tasso di interesse per poi andare a esporsi in una valuta invece che presenta un tasso di interesse molto più ampio. Ovviamente questa è un'operazione denominata carry trade che bisogna mettere in atto solo con delle competenze e delle conoscenze ben specifiche in ambito forex e soprattutto dopo tanti anni di esperienza. Quando parliamo sempre di valute rifugio parliamo anche di valute che nei momenti di alta instabilità dei mercati sono considerati degli investimenti meno rischiosi. Lo vediamo adesso per esempio nel momento nel quale stiamo registrando quando abbiamo diciamo se abbiamo passato due anni di covid abbiamo passato un anno di guerra quindi ci facciamo riferimento in particolare appunto alle tensioni geopolitiche al conflitto in Ucraina i mercati azionari sono stati sensibilmente penalizzati. Quali sono normalmente in queste circostanze le valute più diciamo più avvantaggiate dal punto di vista del diciamo delle prese di posizione sicuramente le valute rifugio e quindi yen e franco svizzero. Quindi normalmente quando si parla di stabilità dei mercati vi hanno fatto un esempio prima gli investitori tendono ad andare verso investimenti meno rischiosi e quindi prendere in considerazione delle coppie che presentano meno rischio rispetto ad altre tipologie di asset. In questo caso facciamo proprio un riferimento tra gli asset di un certo tipo perché abbiamo proprio parlato di azioni che in un momento di instabilità del mercato scendono e di forex come asset. Poi in particolare all'interno del mercato del forex esistono delle coppie di valute più rischiose e meno rischiose come abbiamo detto in precedenza. Quindi nei momenti di alta instabilità gli investitori cercano rifugio nelle valute appunto meno rischiose all'interno del mercato delle forex. Sono poi molto utilizzate come asset poco volatile in fase appunto come abbiamo detto di crisi economica. Hanno un'escursione molto poco ampia rispetto ad altre tipologie di asset quindi facciamo sempre un confronto relativo mai assoluto e quindi vengono privilegiate quando c'è da spostare i portafogli. Quindi nel momento in cui vengono riequilibrati i portafogli e ci si sposta verso un portafoglio più difensivo all'interno appunto del portafoglio viene rifatta l'asset allocation e vengono cambiati i pesi e i posizionamenti. Vengono inserite magari altri asset e quindi in questo caso vengono inserite più facilmente dei beni rifugio piuttosto che altre tipologie di asset come possono essere magari un azionario internazionale o altre tipologie di titoli. Quindi abbiamo e abbiamo visto che esistono appunto valute rifugio e valute invece speculative come emergenti ed esotiche. Tutte le valute con alti tassi di interesse quindi possono essere considerate come abbiamo detto anche precedentemente valute di tipo speculativo.